Continua l'attesa in casa Rosso Blu per conoscere il nome del nuovo tecnico per la stagione 2020-2021 con le quotazioni in rialzo di Massimo Costantino, ex tecnico dell'FC Messina. Il sogno proibito dei Rosso Blu resta Antonio Calabro sotto contratto fino al 2021 con la Viterbese e che ha molto mercato in Serie C e sarebbe poco propenso a scendere di categoria. Intanto il club ionico pensa agli aspetti organizzativi per la prossima stagione e a tale riguardo nella giornata di giovedì sopra il luogo da parte di una delegazione di dirigenti ionici a Camigliatello Silano tra le sedi papabili per il ritiro precampionato sarebbe una scelta per puntare sul sicuro considerando che la località collinare calabrese aveva già ospitato in altre due circostanze la squadra ionica nel corso dei ritiri precampionato, l'ultima volta nell'estate del 2018. Intanto per quanto riguarda le date della nuova stagione, l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D dovrà essere completata entro il prossimo 30 luglio. Prima di tale data, tra le altre attività da effettuare, dovrà essere sottoscritta la convenzione d'uso dello stadio Iacovone con l'amministrazione comunale. Il campionato dovrebbe iniziare in una data compresa tra il 13 e il 20 settembre.